ciao ciao amici sono il carletto e come sempre questo è il mio canale dove vado a recensire statue doll action figure gashapon cavalieri dello zodiaco mit cloth robo shogokin tutto quello che il mondo del collezionismo che io adoro allora nella scorsa recensione abbiamo unboxato abbiamo visto oliver atto ora andiamo a vedere mark landes sempre di questa casa dovrebbe essere la gt toys una cinesata che però per holly se rivelata invece un bellissimo prodotto a me è piaciuto mark sembra ancora più bello e poi come avevo detto in anticipazione avevo già intravisto addirittura dietro il cartonato col tiro della tigre comunque andiamolo ad unboxare vediamo tutto quello che c'è anche il mark landes il suo tiro della tigre diabolico andiamo a vedere e vediamo prima tutto quello c'è poi nel dettaglio poi li vedremo girare facciamo uno scontro controlli un po di cose carinissime come sempre nelle mie recensioni allora unboxiamolo ecco amici cosa troviamo in mark landes sempre tre visi più 14 sempre le solite 12 mani nel totale compreso le sue la basetta con il campo ma la cosa bella che non capisco perché non hanno messo il falco in holly e che troviamo in mark landes il cartonato veramente carino del suo tiro della tigre vediamo subito velocemente le cose che sono uguali a holly mark landes troviamo sempre il campo vedete identica come renoli con praticamente finto campo da calcio finto prato con le due parti da applicare alla basetta per tenerlo in volo hai detto anche in posizione di tiro ma abbiamo visto anche per holly che stavano su anche senza quindi questa parte qua identica holly poi in mark landes sempre identica holly troviamo tutte le mani col pallone però come potete vedere se vi ricordate anche nell'anime marca aveva più una carnagione tipo mulatta quindi le mani come potete vedere non sono bianche come quelle di holly ma sono più più scure quindi una carnagione più scura ma come posizione sono sempre identiche sono sempre 12 quindi cambia sempre la colorazione noi qua ne vediamo praticamente 10 ma ce ne sono anche due addosso alla figure già messe poi pallone identico la cosa che va veramente mi è piaciuta parecchio è stato il cartonato della tt lo della tigre che vedete identico nella scena che si vedeva nell'anime guardate che bello questo i nolli dovevano mettere il tiro del falco secondo me perché guardate fatto veramente bene poteva uscire una bella figure lui che tirava holly di qua col falco si mettevano loro due carina uscì una cosa carina invece ce l'hanno fatta solo per mark landes poi troviamo l'altra capigliatura bella 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 le facce che come non li avete vista questo aggancio che va la doll interna già alla faccia questa è una particolarità e guardate come anche per mark sono curati bene i volti uno che ce la fanno sembrare veramente una figure di fascia alta anche se un made in cina guardate 23 guardate curata veramente bene fatta veramente bene adesso andiamo a vedere proprio la figure di mark e che anche lui è eccezionale secondo me per la fascia di costo guardate bella 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 qua con il ciuffo più lungo non si vede neanche tanto l'aggancio dei capelli guardate che bella figure ragazzi bella 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 veramente non me l'aspettavo non me l'aspettavo veramente dalla gt far due figure fatte così bene guardate come in holly il doppio praticamente il doppio snodo in queste figure di fascia di prezzo basso è difficilissimo da trovare guardate il doppio snodo durissimi quindi anche lui come holly penso che lo potremo mettere in un sacco di posizione guardate che bella questa cosa del doppio snodo mi piace andavano sempre coperti perché io non li amo e quindi andrebbero sempre secondo me coperti con silicone ma poi si va su altri range di prezzo ovviamente perché più lavoro gli fai fare più ti alzano il prezzo riuscita riuscita anche lui mark secondo me guardate che bello guardate guardate qua c'è bello 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 ragazzi bello 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 finalmente posso dire una figure bella di mark landers guardate quella cosa che vedevamo anche prima in holly guardate poi come ha fatto bene anche gli scarponcini c'è una posabilità incredibile guardate anche lui possa metterlo in scivolata in rovesciata possiamo fargli quello che vogliamo perché questi snodi guardatelo così sono eccezionali quindi adesso li vedremo un po di cose lo vedremo in rovesciata lo vedremo è fatta veramente anche lui veramente bella speriamo che vanno avanti con almeno i più forti almeno che ci facciano una decina di personaggi più forti gli oli e benji verrebbe una bella collezione veramente perché questi qua secondo me ne valgono veramente la pena per il prezzo che hanno e sono veramente carini dai vediamolo girare prima lui un attimo con due tiri poi insieme a holly facciamo fare qualcosa di spettacolare guardate anche i tacchetti le scarpe bello 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 ragazzi guardate che spettacolo come sta su senza neanche bisogno della basetta qua gli ho fatto lui che carica il suo tiro della tigre famelica guardate che spetta ma guardate come sta con sti doppi snodi sta su in vetrina senza bisogno della basetta guardate come tre ma adesso penso che primo poi anche se gli snodi sono duri cadono perché comunque c'è anche la vibrazione della pedana che gira no non cade sembra un miracolo fatto veramente un bellissimo lavoro guardate che spettacolo mi piace un casino tutte e due mi piace ancora di più oli marca ragazzi è fatto veramente benissimo a parer mio e per la cifra veramente irrisoria ne vale veramente la pena dai come come holly facciamo una scivolata un'altra cosa da solo e poi mettiamo gli scontri insieme e tentiamo di fare qualche bella scenetta ragazzi sapete che quando mi esalto mi esalto parecchio guardate qua pezzettino sotto il pallone di scotch invisibile beh adesso l'ho messo che si vede un po' qua potete metterlo guardate sta tiene anche il peso no mo se è staccato il pallone comunque tiene anche il peso perché lo scotch era piccolo non teneva lo potete fare come vi ho fatto vedere in palleggio eccezionale senza bisogno degli attacchi della base eccolo qua amici anche in scivolata spettacolo mi piacciono proprio queste figure qua ragazze guardate che cosa gli riusciamo a far fare di tutto con questi doppi snodi belli rigidi che gli hanno fatto guardate non si piega rimane in scivolata senza piegare guardate si muove il pallone tutto ma lui guardate e sollevato di qua rimane immobile appoggiato solo qua sulla punta dei tacchetti talmente che sono rigidi gli snodi belle 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 sono veramente piaciute parecchio ragazzi dai facciamogli due rovesciate insieme all e andiamo a concludere anche questa di mark leder ragazzi vediamo questa che si vedeva un po di testa a colpire di testa bark e ho il il rovesciata da di sventare la palla che finiva in rete ma che sono voluta fare perché era un classico anche della serie arrivata dai facciamone un'altra divertente diamo un tiro classico uno contro l'altro qualcosa dai amici guardate qua possiamo mettere che metrina che fanno guardate la rovesciata uno contro l'altro spettacolare mi piace veramente fate tutte e due bene realizzate bene ottimi mi sembrano anche materiali anche di fattura migliore rispetto al range di costo nel complesso comunque tutte e due belle buon voto per entrambe veramente carine visi dettagliati vedete gli possiamo far fare di tutto adesso gli facciamo un tiro magari anche incrociato semplice uno che si scontra uno contro l'altro e poi andrei a concludere anche questa recensione di mark lenders veramente non presi tutte e due speriamo che fanno anche qualche altra uscita di qualche altro personaggio importante della serie amici cambio di idea mi è venuta la conclusione di questa figure l'ultimo giro è proprio loro semplici così che si guardano con sguardo di sfida tema così proprio si guardano negli occhi per la loro sfida infinita belle vederli anche così uno di fronte agli altro che si guardano questo modo così no veramente carine tutte e due questa è la recensione di mark lenders perché ho lì l'abbiamo già fatto e anche mark lenders completamente promosso ottimi materiali fattura fatta veramente bene sculpt dei visi veramente carino ottimissima posabilità e direi che con questo è tutto andrei a concludere amici finisce anche la recensione di mark lenders di questa sembrerebbe gt toys comunque casa cinese che ha fatto veramente un bel prodotto anche in questo caso come anche holly e che dire sono veramente tutte e due belli meritano per il specialmente anche per il costo basso che hanno meritano veramente secondo me perché li possa mettere in vetrina come vi ho fatto vedere in qualsiasi modo come vogliamo sono veramente carini per la prima volta vedrete una cosa guardate adesso loro si guardavano così passava il pallone lì avanti e si ammazzavano l'ha lasciato passare avete visto non avete mai visto questa cosa qua nell'anime passa un pallone ma loro due se ne frega questa recensione la dica sempre ragazzi pollice alzato like al video mi raccomando iscrivetevi sopra il mio canale o nella faccina adesso che esce con della mia faccina col guanto di tanos cliccando anche lì vi potete anche iscrivere anche così e mi raccomando iscrivetevi un saluto alla prossima recensione